Gentili telespettatori, buona giornata. Sondaggio Tecne di Remonitor Italia di oggi, sabato 6 aprile 2024. Il borsino del governo. Voti da 1 a 5 negativi chi non ha fiducia in crescita dello 0,2% al 53,5, la maggioranza assoluta. Chi ha fiducia a voti da 6 a 10 scende dello 0,1 al 39,7%, mentre chi risponde di non sapere scende dello 0,1 al 6,8%, differenza rispetto al 22 marzo due settimane precedenti. Grazie a tutti e buon proseguimento di giornata. Grazie a tutti.